E adesso noi parliamo di basket, oggi il presidente della federazione Gianni Petrucci era a Bologna nella sede della Virtus, tra i temi trattati la capienza nei palasport, sentiamolo. Noi abbiamo chiesto come partenza al 50% ma non siamo contenti, noi vogliamo il 100%. Come giustamente il calcio vuole arrivare al 100% è logico e giusto. Abbiamo impianti, Bologna è uno di questi, che può benissimo con le cautele e con le garanzie. Se il presidente Draghi ha detto che col Green Pass si può tornare a una vita normale, perché nello sport no? Perché nei teatri giustamente il ministro Franceschini, che è pure autorevole, dice che vuole al 100% e noi ci dobbiamo vergognare di che? Qual è il pericolo che emette lo sport italiano? Ha dimostrato il calcio agli europei, il pubblico è entrato, che è successo niente. L'abbiamo dimostrato noi del basket, quando si è giocato quella partita famosa con il pubblico, con alternanza dei posti. Niente, perché non si può avere il 100%?